Secondo l'Elep... La legge di Murphy. La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta, ma che tutto quello che può accadere, accadrà. Per fare quello che faccio, devo avere un'idea della minacciata. Dobbiamo soltare la verità. Il CV... A chi ti servono? Per fare tutto. Per fare tutto. Per fare tutto. E' in gioco la sopravvivenza. Mi sembra audace. Audace va bene, credevo dicesse folle. Qui i nostri mondi si scontrano. 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 Che è successo qui? Non è ancora successo. Qui i nostri mondi si scontrano. Qui i nostri mondi si scontrano. Quando tutto fosse tutto. Quando il sole si scontrano. Quando il sole si scontrano. Cosa pensi che siano? Detriti di una guerra imminente. Ecco questa è la parte un po' drammatica. Ok e buonasera a tutti ragazzi. Ciao Lele. Come va? Come va Romano? Tanto che non ci si fede. Cioè da ieri. E da ieri sì. Perché noi ieri eravamo al lavoro anche ieri. Nonostante tutto. Mamma mia. Vabbè. E tu tra l'altro ieri hai fatto una mezza giornata. Teoricamente era la tua giornata di transito. E niente. Te l'ho infilata anche nella era di lavoro. Anche quella. Hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo ed è un piacere. Perché comunque ci siamo messi in testa di evolvere questa categoria. Lo dobbiamo fare lavorando da prospettive diverse. L'obiettivo è quello di essere utili e continuare a focalizzarci sui risultati che vogliamo far produrre. È una battaglia perché come ho detto a non so quanti giornalisti. Il problema per far crescere i parrucchieri è indiscutibilmente il parrucchiere. È incredibile. 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 Guarda ho visto in questi giorni. Ho visto cose che voi umani ma in realtà il pelanato qua è umanissimo. Anzi è fin troppo umano. Ma a parte il fatto che ero umano. Finché mi emoziono per i risultati che i clienti producono andiamo bene. Il giorno che non mi emozionerò più dovrò farmi delle domande. Perché probabilmente sarò diventato inutile. Quello che noto è veramente che delle volte ci sono tantissimi parrucchieri che fanno più a gara a trovare la giustificazione per cui non riescono, non fanno, non qua, non là, che non cercare di trovare la motivazione a farlo. E quindi puoi immaginarti come ci sposiamo. Ma ti racconto una cosa perché poi questa sera la dedicheremo ai collaboratori e abrabbaccio tutti i collaboratori laddove ce ne fossero che hanno deciso di essere dei nostri questa sera. Perché poi il collaboratore a volte si lamenta del titolare quando in realtà qui ci dovrebbero essere tanti collaboratori quanto tanti titolari. Perché sicuramente lavoreremo sul dialogo fra il titolare e il collaboratore e non soltanto dal titolare verso il collaboratore. Ma c'è una cosa che voglio trasmetterti proprio legata alla motivazione. Perché ripeto è indiscutibile. Noi siamo andati a Bari. Allora ragazzi c'è il Covid. Sappiamo che è preoccupante. Sappiamo che ci sono due strade da prendere. Bisognerà vedere quale delle due lo Stato prenderà. Io sono pronto a lavorare in entrambi i casi. Anche se questa volta laddove dovessero chiudere lavorerò solo ed esclusivamente per i miei clienti. E non lavorerò più come ho fatto nel precedente lockdown in cui ho dato tutto me stesso facendo due, tre, quattro dirette a settimana. Però al di là di quello, quello che vedo, quello che noto, è che spesso e volentieri, al di là del lockdown, non attacchiamoci tutti quanti al Covid. Noi abbiamo portato in sala oltre 400 parrucchieri pro tra Torino, Bologna e Bari, che abbiamo finito per l'altro ieri, in pieno regime di Covid, rigorosamente rispettando ogni regola in una maniera straordinaria, tutti con le mascherine, in perfetto orario all'interno. Abbiamo rispettato tutto, disinfettanti, eccetera. Quindi già ci siamo lasciati alle spalle il momento nel quale dovevamo lavorare solo ed esclusivamente a distanza. E questo è un pazzo, è un passo. Però c'è una cosa che voglio dirti, ci impiegherò un minuto al massimo, ma mi importa che arrivi. Perché il titolare, prima ancora che preoccuparsi dei collaboratori, deve preoccuparsi di se stesso. Quando noi diciamo che essere leader significa dare l'esempio, beh, ti faccio un esempio. Io ho un salone molto importante, non lo nomino perché non gli ho chiesto il permesso di farlo, ho un salone molto importante che ha deciso di sposare il percorso annuale con me, quindi saremo insieme da gennaio a dicembre del prossimo anno, ha già formalizzato l'accordo. Ebbene, lui mi dice, meno male che non ho ascoltato un paio di miei colleghi. Ora, io gli ho detto, ma cosa intendi? Perché ci rimani, no? Io sono qui che dico, ma come? Sono il migliore, sono uno dei migliori, non ascoltate me perché potrei essere io che mi voglio imbrodare, guardate i risultati dei miei clienti, ok? Che qualcuno dice, ma Lele, tutte le recensioni, sì, ho centinaia di persone di recensioni fasulle, è solo che il mio bilancio dice che mi pagano, perché se no o gli metto i soldi al posto loro, perché non basta nemmeno regalare, bisogna mettere i soldi al posto loro, perché poi il bilancio parla chiaro, se è un'azienda a sette cifre un motivo ci sarà, vuol dire che i clienti ti pagano, ma ancora di più che i clienti guadagnano e con i soldi che guadagnano ti pagano, che poi è la perfezione. Ma senti questa Romano perché è il massimo. Cioè questo qua mi ha detto, che due persone gli hanno detto che non mi seguono perché io durante il lockdown dicevo di aumentare i prezzi. Ora, premesso che io ho la fortuna di aver lasciato le registrazioni, quindi ci sono tutte e basta andare a ascoltarle tutte, cioè non è che le ho cambiate, erano delle dirette e sono tutte disponibili. Allora, ragazzi, io ho detto questo, se avete un listino basso, non riaprite con quel listino, perché se riaprite alla pari con quel listino, non arriverete a Natale. Non dovete allo stesso modo aumentare i prezzi, perché se aumentate i prezzi perderete i clienti che verranno la prima volta da voi e poi li perderete. Dovete ripensare il listino. Ripensare il listino vuol dire che cambierete il menu, che toglierete delle voci, che ne metterete delle nuove. Dovrete dare la sensazione di continuità al cliente, mettere il cliente al centro della vostra evoluzione e capire che il listino è il riflesso di una strategia che noi chiamiamo strategia di pricing. Quindi, mi raccomando, non lasciate il listino basso, né tantomeno fate sconti, non aumentate, perché poi io non ero arrivato, Romano, all'idea che qualcuno si inventasse una tassa Covid. Io quelli lì li avrei sequestrato il salone. Li avrei sequestrato il salone, chiuso, via, perché non hai capito un cazzo della vita, non c'entra il lavoro. Però, questo qua, che ha un salone della Madonna, non ha ascoltato i suoi due colleghi conterranei, che fra l'altro sono tutti e due, me lo diceva lui, in grandi difficoltà. Perché? Perché ovviamente cosa hanno fatto? Riapertura, sconto, tutte e due. Quindi, un fenomeno che ogni tanto lui si definisce mio collega. Io non voglio nemmeno mettere, perché non è qui che si può difendere, perché altrimenti dovrei cominciare a insultarlo con i migliori insulti che conosco. Ma la realtà, ragazzi, è che in questo mercato, che voi guardiate al marketing, che voi guardiate ai numeri, che voi guardiate alle persone, voi dovete essere al centro del vostro business, ragionare con la vostra testa e capire che mai come in questo momento sta a voi e a nessun altro, Covid compreso, fare di questo periodo un'opportunità o una difficoltà. Siamo tutti in difficoltà e tutti potenzialmente siamo in difficoltà. Io vi dico che quest'anno andrò a fare un recupero mostruoso e sto preparando il 2021 da spaccare tutto, Covid o non Covid, perché tanto il Covid ha i mesi contati. Ormai è questione di mesi. Che dopo, che rimontino, che non rimontino, che facciano chiudere, che chiudano reparti o che chiudano... Stanno facendo delle robe vergognose, però vi dico una cosa e chiudo. Il problema qual è, ragazzi? Io ieri sera ho finito, ho lavorato, ho fatto una diretta a Romano con i miei parrucchieri pro e allievi avanzati, straordinari, almeno ha detto a loro, è stato veramente uno spettacolo. Sono d'accordo, tanto mi tiro su le maniche, sono d'accordo e ieri sera alle 11.10 abbiamo finito la diretta. Ho preso e sono partito e sono andato in una birreria. Bella birreria, in quel di Carrù e il Pozzo, sono andato, siamo stati bene, abbiamo mangiato bene, siamo scelti di lì, che era quasi la mezza, siamo stati divinamente. Piccolo problema, gli unici con la mascherina eravamo Cinzia e io. Quindi è chiaro che poi delle volte ce le andiamo anche un po' a cercare, sembra quasi che qualcuno abbia voglia di ammalarsi. Però la realtà, la base è che spesso e volentieri quello che non va bene è che vedi il parrucchiere che non rispetta già più le condizioni, che già le fa in una maniera più soft o che permette al cliente di non rispettarle. Invece in questo momento dovete assolutamente essere capaci di far vedere al mondo, attraverso messaggi Facebook o Instagram o dove vi pare, attraverso le vetrine, dovete ricordare alle persone che voi state rispettando rigorosamente i protocolli e che quindi le persone possono venire da voi in assoluta serenità. Questa è una cosa che non dovete mai scordarvi perché altrimenti andiamo sempre a banane. È un periodo in cui diciamo che gli errori, che le idee rendono meno e che gli errori costano il triplo. Quindi dobbiamo essere bravi a sviluppare idee e a commettere il minor numero di errori possibili. Ecco, tra l'altro ragazzi tra gli errori io vedo sempre qualche foto di troppo con mascherina di qualche cliente nell'angolo è un po' abbassata, è chiaro che magari la sfortuna è stata presa in quel momento però soprattutto nelle foto fate attenzioni perché la foto rimane e la percezione è quella io sono venuto da voi più di 200 saloni ho sempre visto misure oltre quello che sono state richieste gente con sovrascarpe, temperatura, gel, di tutto di più ti prendo la borsa, te la metto via anche cose non necessarie anche dove adesso i giornali si sono liberati, niente, neanche quelli quindi siete già avanti però ogni tanto fate qualche scivolone sulle bucci di banana con queste foto un po' qua e là, attenzione a quello che postate in questi giorni. Anche perché poi Romano parliamoci chiaro qui ci colleghiamo a piombo con il lavoro che faremo stasera il primo posto in cui dobbiamo garantire tranquillità è il nostro team noi abbiamo una persona che posso garantirti in questo momento averla a casa per noi è un dramma perché comunque sia domani noi andiamo in clausura per un paio di giorni saremo via, salutiamo tutti mettiamo un messaggio in segreteria l'ufficio sarà chiuso da domani perché poi andiamo in un agriturismo tutti insieme a prepararci per la fine di quest'anno e soprattutto per l'inizio del 2021 e saremo tutti insieme arrivano anche Raffaele, Giancarla tutte le ragazze dell'ufficio siamo tutti insieme ormai Asia ieri è stata con noi tutto il tempo a Bari poi ieri sera alle 11 era collegata in diretta io penso che il suo ragazzo un giorno o l'altro viene qua e ci scrolla sta di fatto che siamo un bel team però abbiamo una persona che ha il raffreddore e la tosse e non ci... pensiamo un attimo e qui mi incazzo con lo Stato qui sì che mi incazzo con lo Stato perché è impensabile che oggi noi non abbiamo ancora a disposizione un test rapido che mi permetta in un'ora o almeno in mezza giornata di sapere se sono o non sono positivo perché in quel momento se una ragazza ha un problema io ti dico è un raffreddore che probabilmente ha preso dalla figlioletta non ci azzecca un cavolo con il Covid ma tanto tu hai una persona ferma a casa e questo succede moltiplicalo non per la mia azienda ma per n aziende in Italia per non parlare del pubblico eccetera e allora diventa veramente un lockdown fatto in una maniera diversa è impensabile che siamo a questo punto questa è la cosa che mi fa più incavolare un test rapido adesso ci doveva essere c'erano un sacco di realtà che si erano proposte erano attendibili non avevano controindicazioni maledizione ci ritroviamo a settembre nello stesso punto in cui eravamo a marzo queste sono le cose che non vanno bene sì hanno messo queste limitazioni della temperatura oltretutto chi ha figli magari li porta a scuola due linee di febbre non lo fanno entrare e poi chi è che lo tiene cioè la titolare di salone come fa ad andare a aprire il salone lo porta in salone malato cioè nel senso sono un po' folli detto questo ragazzi vi ricordo che non più tardi di due settimane fa forse tre avevamo messo quel post che ci avete insultato malamente e se ci fosse un altro lockdown no ecco benvenuti nel clan ma non perché abbiamo ragione e siamo contenti anzi speravo di aver torto lockdown in tanti modi diversi cioè il lockdown non è chiusi in casa e basta può essere fatto a macchia di leopardo può essere fatto in questo modo che ha detto Lele cioè di fatto è un vero e proprio lockdown perché hai un raffreddore e adesso a novembre voglio vedere quanti ne arriveranno di raffreddore e ti costringono a stare in casa oppure anche noi stessi abbiamo questa fobia che quando vedi qualcuno che stranutisce due colpi di tosse cambi in strada cioè proprio sembra che sia uno zombie cioè ti viene proprio addosso questa cosa qua e questa è la bisogna difendersi questa cosa ragazzi guarda una cosa e poi partiamo a bomba perché sono già 45 una cosa voglio dirla a tutti quanti anche se ripeto l'ho detto e lo manterrò io questa volta se mai dovesse esserci anche solo un lockdown parziale lavorerò solo con parrucchieri pro live avanzati quello che dovevo dare a questa categoria io l'ho dato prima di tutto lavorando gratis per tre mesi e in secondo facendo l'Inx che il 31 ottobre togliamo dal mercato che è un prodotto che vale migliaia di euro e l'ho dato a 397 perché sono un imprenditore e non il buon samaritano e quindi avevo piacere di fare qualcosa che vi mettesse in condizioni di riflettere su cosa vuol dire evolversi in imprenditore della bellezza ma detto questo questa volta un suggerimento ve lo voglio dare anche stasera non pensate all'e-commerce o alla vendita di prodotti o di servizi a domicilio questa volta dovete essere capaci di pensare che il lockdown è cambiato e quindi se mai dovesse esserci come dalle parti di Latina un lockdown parziale voi dovrete essere straordinari a creare delle bolle delle nicchie che siano un giorno alla settimana che siano in fasce orarie fate voi potrebbe essere fasce orarie lungo la settimana o giorni in cui voi andate a fare un servizio one to one un servizio estremamente riservato per quella clientela che sarà ben lieta di pagare una maggiorazione che poi di fatto non dovrà essere presentata come una maggiorazione non ti dico c'è la maggiorazione del 20% sul listino che vuol dire che sei così fannullone che non hai voglia di fare un altro listino ci sarà proprio un listino diverso della serie c'è il menu suare sto sparando una cavolata o c'è il menu martedì in cui io vado a fare dei servizi one to one in cui in salone siete la metà e avete o addirittura se sei un salone piccolo lavoriamo in un certo modo insomma entrate una alla volta decidete voi dipende dalle dimensioni del salone dal vostro posizionamento quello che volete ma si può fare un lavoro ma Lele io che ho tanti collaboratori ragazzi preparatevi perché bisogna vedere se capiscono come farvi gestire gli orari perché c'è un piccolo discorso da fare hanno finito i soldi e quelli dell'Europa non si sa in che modalità arriveranno e come arriveranno e a chi li daranno quindi è un bel cinema quindi dovete farvi trovare pronti non pensate che la soluzione sia per forza solo l'e-commerce o vendere il prodotto o il trattamento o strisciare per le case Lele strisciare per le case come si era detto quello che non parlo perché per me quelle non sono persone sono merde quindi è una cosa diversa domani rivedo di rispolverare un paio di post sull'obusivismo così li metto subito a posto tra l'altro è stato bellissimo noi ce ne siamo accorti noi dicevamo i primi che devono essere messi alla gogna sono i parrucchieri che pagano poco i loro dipendenti che li inquadrano part time e poi li fanno lavorare dieci ore al giorno noi avevamo detto quello all'inizio del post e sotto i commenti ma perché non parlate dei collaboratori se fossi capace a leggere probabilmente avresti visto che l'abbiamo fatto esatto abbiamo avuto lo stesso problema tanta pazienza ti ripeto poi ti ritrovi in sale come a Torino ne avevo 126 come a Bologna ne avevo 180 e passa come a Bari ne avevo una novantina gente che ha voglia di spaccare tutto ma te lo ripeto a me dicono che i miei colleghi fanno cambiano gli esercizi ragazzi io ho iniziato alle 11 della domenica ho detto ragazzi rispetteremo gli orari 14 e 30 tutti in sala 16 e 30 tutti in sala 18 e 30 tutti in sala l'indomani mattina alle 9 e 30 cioè non abbiamo aspettato mai non abbiamo mai avuto il flusso di gente che arriva dopo perché se pesa il caffè ho risposto su Whatsapp una partecipazione un rispetto delle rigoroso delle regole meraviglioso meraviglioso vi amo alla follia imprenditori della bellezza vi amo siete quelli che mi hanno riempito la vita grazie e siccome non mi fido a Milano vengo a vedere di persona bravo perché già ho messo il naso dentro però c'era poco c'era poco segnale a Bari però a Milano vengo di persona ragazzi quindi attenzione intanto colgo l'occasione perché c'è Michele di Bella che dice ciao Lele chi devo contattare per venire a Bologna creatori di profitti creatori di profitti e vedo che c'è Raffaele che ha risposto al volo dove è il salone quindi contatta lui direttamente cosa si tratta Michele allora tenete presente che per quelli che sono nostri clienti che hanno fatto qualcosa con noi abbiamo deciso con Davide del Medico di fare una due giorni in cui io farò il guastatore Romano tu pensa farò il tè farò quello che perché di fatto io lavoro due orette il lunedì ed è bellissimo ma facciamola veloce perché ripeto voglio parlare di collaboratori e tu ce la facciamo siamo lunghi creatori di profitti dice tutto nel nome e che cosa ci siamo ripromessi di fare con Davide noi abbiamo creato un'azienda che si chiama Renumera e è un anno che in piedi ha fatto numeri impressionanti l'anno scorso nel primo anno è sentitissimo e finalmente il parrucchiere si rende conto che deve gestire i numeri in prima persona che non può dire ma i numeri me li gestisce il commercialista proprio perché guarda caso con il lockdown io ormai ho sdoganato il fatto del listino stagionale cioè per me i listini spesso e volentieri non è che devi cambiarli totalmente ma puoi cambiare uno o più voce o addirittura aggiungere o togliere un menu ecco perché dico non li ho fatti aumentare ho fatto ripensare il listino e ho fatto la fortuna sono decine 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 che mi hanno detto Lele se non ci fossi stato tu dopo il lockdown non so se sarei ancora qui ha chiuso il 4% di saloni e chiuderà tra l'8 e il 12% entro la fine dell'anno si stima anche il 20% e c'è l'occaso un sacco di peggio esatto quindi che cosa abbiamo fatto a creatori di profitti primo sai Romano è bellissimo lasciamolo raccontare in un minuto vai vai Romano tu pensa non parte dal vediamo quanto fatturi ma vediamo quanto devi fatturare il prossimo anno per cosa? per guadagnare la cifra che hai in mente cioè non parte dal fatturato ma parte da quanto quel parrucchiere vuole portarsi a casa netti ogni mese poi dopo va a fare un secondo ragionamento e ad analizzare in una maniera completamente diversa i costi non parla del break even point cioè del punto di pareggio ma va a parlare del prezzo del punto G vale a dire del punto guadagno di quanto devi fare al minuto non di quanto ti costa il salone al minuto poi prende i clienti tanto per dirti gli estremi dai cessi ai bancomat perché tu pensa che un terzo dei clienti di un salone mediamente non produce profitti o comunque lo fa in misure estremamente basse quindi tu dovresti prendere quella gente e se non la facessi già aumenteresti i profitti e il parrucchiere non ci crede quindi lo capirà perché gli allievi avanzati lo stanno già facendo alla grandissima da un anno poi non ultimo va a fare un'analisi perché sai che io ve lo invito vi sto trasmettendo degli input su cui potete già riflettere e lavorare da domani io non voglio più che ragioniate con un budget annuale sul marketing oggi non ha nessun senso ragionare così è un modo vecchio obsoleto di fare e fra l'altro oggi più che mai voi pensate che se perdete 20.000 euro di fatturato vuol dire che cala anche il vostro budget nel marketing quando cioè cala nel momento in cui dovreste incrementarlo per recuperare il fatturato perso lui invece che cosa fa? ti fa fare un'analisi specifica attività per attività strategia per strategia di modo che uno possa dire ancora prima di cominciare ok se metto 1.000 euro dovrà succedere questo, questo e questo quindi calcola il costo effettivo ribaltato sul cliente sono quattro sviluppi molto precisi poi andrò a chiudere il cerchio il lunedì pomeriggio andando a lavorare su un aspetto molto importante dell'imprenditore della bellezza che è la parte manageriale la parte dei numeri e il rapporto che deve fare tra marketing numeri persone e ovviamente quindi atteggiamento insomma saranno due giorni molto belli non vedo l'ora di essere il 8 o il 9 di novembre ma prima di quelle due date ho altri due parochieri e quindi si spacca allora quindi per le informazioni metti qua Raffaele Sias ecco contatta questo personaggio losco sulla poltrona che ti farà indicare così abbiamo fatto allora hai dato anche tra l'altro un gancio perché hai parlato di prendere le cose per poi farle aumentare e il fatto del timore di prendere un collaboratore perché è guardando il bilancio attuale sai il classico errore guardo e dico no non prendo nessuno perché non ce la faccio e non pensi a cosa ti potrà portare lui uno passo ancora prima devono pensare che quando prendono un collaboratore devono diventare imprenditori tutte e due fondamentalmente come mentalità dico cioè non c'è più il padrone cioè io lo vedo con Livio con quello diretto con Alessandra cioè non posso più relazionarmi come fai questo e basta cioè ci deve essere una missione comune però tu che ne sai a pacchi come dico sempre quando vai illumineci guarda innanzitutto quello che hai detto è straordinario e secondo me spesso e volentieri quello che che fai è che invece di essere solo un media partner con Parrucchialando stai diventando qualcuno che risveglia le coscienze e fa riflettere da delle prospettive nuove perché poi magari io mi aspetto sempre l'ho detto noi non siamo qui per prendere complimenti e basta siamo anche qui per prenderci delle parole laddove abbiate delle obiezioni da sollevare delle domande da fare nessun problema siamo qui apposta per rispondervi però partiamo dal presupposto che Romano vi ha subito detto una cosa primo è impensabile pensare ai collaboratori come un costo l'esempio più classico l'ho fatto diverse volte ed è quello della marmana noi chiamiamo così la marketing manager ovvero l'evoluzione contemporanea della figura della receptionist oggi noi abbiamo dei saloni che se vanno a imputare il numero di clienti riattivati o dei numero di clienti nuovi e la crescita del tasso di fidelizzazione la marmana addirittura in alcuni casi rende più del lavoro che fa il titolare all'interno del salone non so se mi spiego cioè è la prima voce di profitto voi dite ah io se non lavorassi io il salone si ferma no ci sono dei saloni in cui la marmana rende più del titolare questo è per darvi un'idea di quanto sia importante e abbiamo Fior di commercialisti che oggi dice al titolare ma cosa assumi non vedi in che situazione siamo non assumere e poi è chiaro che nel momento in cui l'altro giorno discutevo durante una diretta con una mi dice eh ma il mio commercialista mi ha detto che non devo assumere perché mi dici che lo devo fare no il commercialista innanzitutto ti ha fatto fare la forfetaria quindi in questo momento tu non puoi assumere per quel motivo lì perché perché arrivi ad un livello in cui per poterti se arriva la ragazza incrementi il fatturato e se incremento il fatturato tu nella forfetaria non ci stai più e allora io ho chiesto perché hai fatto la forfetaria ma me l'ha consigliata lui ok tu cosa hai chiesto al commercialista quindi ci siamo spostati al problema solito dei numeri e non più al problema dei collaboratori quando oggi ritorniamo a bomba su questo sui numeri magari parleremo un'altra volta quando siamo davanti ai collaboratori dobbiamo pensare che il collaboratore è una voce di profitto e senza il collaboratore noi abbiamo diamo in qualche modo un limite alle nostre ambizioni poi attenzione quando ovviamente così come qualcuno diceva malele è quello che ha detto di aumentare i listini no allo stesso modo ma lele è quello che ha detto che se non assumi no perché io quello che dico piantatevelo in testa tanto ci sarà la diretta registrata piantatevelo in testa io non dico che il salone piccolo non va bene io dico che è una catastrofe quando al salone piccolo unisci i prezzi piccoli salone piccolo più prezzo piccolo uguale chiudi entro un anno un anno e mezzo salone piccolo più prezzi piccoli dopodiché saluto Elisabetta che da sola in un salone ha una fish media abbondantemente al di sopra dei 100 euro e quindi è un salone piccolo si può definire piccolo risultati incredibili se prendi il salotto del non lo continuo perché non ho chiesto autorizzazione ma stanno facendo fish a 80-90 euro e hanno due saloni dove sono da sola entrambe stanno pensando poi di inserire una figura ma insomma lo spazio c'è i conti bisogna farli partendo dall'obiettivo che si vuole realizzare e ovviamente dall'analisi delle risorse perché ci sta che io possa decidere di inserire una persona a fare un lavoro che per me nell'inizio nell'immediato è un costo e allora la introduco sostengo questo costo perché evidentemente ho visto che ho le risorse per poterlo fare e quindi mi dico ok ce li ho i soldi per i prossimi sei mesi per pagarmi lei anche se lei non lavorasse un minuto se ce li ho tutto quello che lei mi porta in questi sei mesi oltre a crescere all'interno del salone è grasso che cola il problema è che spesso non assumiamo a livello strategico non partiamo dalla persona non abbiamo idee chiare su quello che deve fare e quindi nasce un rapporto che nasce male nasce male e nasce sul fatto che non si ha il tempo spesso di dedicarci anche a questo collaboratore che arriva dentro arrivano dentro vengono buttati lì nella migliore delle ipotesi e abbandonati a se stessi e poi magari non c'è un piano di crescita il romano ne ha azzeccato un'altra non c'è un piano di crescita ne ho visti un po' perché ho visto un po' di cose nei saloni oppure spesso che magari mi chiedono senti l'ele però mi chiedono come faccio a dargli autorevolezza semplicemente magari l'hai mandato a fare un corso e davanti alla cliente chiedigli ma tu che sei andato a fare quel corso lì di scariture piuttosto che è cosa ne pensi cosa facciamo con questo lavoro e già gli hai dato autorevolezza davanti alla cliente e probabilmente la volta successiva questa cliente dirà perché non me lo fa lui questo lavoro ma piccole cose però la cosa è molto più grande io ti volevo chiedere ma mi hai preceduto quanto è il tempo di inserimento che mi devo dare cioè quanto tempo devo investire sei mesi mi hai detto dai tre mesi all'anno a seconda del tipo di inquadramento e poi ovviamente bisogna vedere da dove parte se parliamo di un apprendista e ovviamente la vogliamo collocare in un ambito ben preciso magari siamo in un salone che lavora a catena quindi quella persona dovrà fare un lavoro molto preciso in quel caso posso immaginare che i tre diventino dodici se invece abbiamo una persona che in qualche modo è già formata ma che comunque si è pronta a recepire e a mettersi in gioco e a seguire le codifiche del nostro salone potrebbero bastarne anche tre dipende moltissimo da quello che si fa è chiaro che delle volte che cosa sento Romano che qualcuno dice vabbè a imparare a fare un massaggio ci vuole niente e qui io vi apro un mondo perché non è vero perché fare un massaggio è una cosa fondamentale ripeto mancano le codifiche faccio un esempio che spero vi serva se io vengo da Davide Davide è il mio barber se io vado da Davide e Davide mi propone un servizio comprensivo di massaggio e arrivo al massaggio e a farmi il massaggio c'è Giorgia e Giorgia comincia a farmi il massaggio partendo dalle nuche dalla nuca e poi andandosi dalla nuca dalle tempie dalla nuca c'è un male a un'anca quindi partendo dalle tempie e andando verso la nuca eccetera eccetera e va bene il mio massaggio lo fa anche abbastanza vigoroso va bene torno dopo 15 giorni da Davide il massaggio questa volta me lo fa Mara parte da sopra adesso a questo punto posso dire dall'alluce perché così vado avanti parte da sopra ed è un massaggio più morbido io arriverò la terza volta che decido io se è Giorgia o Mara e lui mi dice no ma il massaggio è tanto uguale no lo dici tu che è uguale se Giorgia e Mara sono codificate quindi hanno delle codifiche sul massaggio entrambi partono dallo stesso modo hanno al di là delle loro caratteristiche hanno la stessa manualità finiscono il massaggio nello stesso modo e questa è una cosa molto importante quindi le codifiche sono poi fra l'altro uno strumento di grande motivazione perché quando la gente parla di motivazione pensa che il motivatore debba dare la corda no? mandi i collaboratori al corso perché non sono motivati non serve a niente perché quello che ti serve è imparare a motivarti da solo e loro devono imparare a motivarsi da solo e tu devi dare non gli strumenti per motivarle ma per fare in modo che le tue collaboratrici siano motivate quindi in questo caso Davide deve lavorare su Giorgia e Mara perché definiscono una codifica ma la codifica le regole sono uno straordinario strumento di motivazione non discuto nella vita normale io ho qualcuno che dice no le regole sono schiavitù no le regole rendono liberi il miglior modo per vivere senza regole consiste nel darsi delle regole perché i miei collaboratori che hanno delle codifiche sono in grado di auto monitorarsi di auto valutarsi e quindi si sentono più forti più motivati quando devono fare le cose Lele sai cosa c'è? che le regole spesso se prendiamo il modello italiano sono scritte perché non si capisce un cavolo per essere interpretate quando vai dall'avvocato no questa si potrebbe fare così già se si potrebbe fare così vuol dire che abbiamo un problema intanto saluto Mario Nicola mi fanno che mi scrive una cosa che mi ha fatto sorridere nel tour di Romano è stato Dante nella Divina Commedia ciao Mario ok meraviglioso sì ecco questa cosa delle regole che non sono chiare secondo me è un problema perché ma no pensavo così come fai a pensare se è scritto in un modo oppure se l'hai comunicato in un modo non è che c'è da pensare c'è da applicare come diceva Yoda fare o non fare non c'è provare ecco è qui uguale bellissimo 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 quindi se si arriva alle 9 alle 9 devo arrivare non è che c'è prova ad arrivare alle 9 e 10 no non avevo capito perché l'orario elastico perché anche lì orario elastico cosa vuol dire cioè orario elastico 8-9 arrivano alle 9 9-9-5 perché poi cominciano 9 e un quarto perché è elastico allora date una regola precisa ed evitate la discussione perché dopo la regola deve essere precisa ma Romano soprattutto le regole devono essere scritte ma lo sai quante liti in giro per l'Italia perché mi dicono a noi le regole ce le abbiamo qua ragazzi io faccio sempre un po' di cabaret a parrucchiere pro quando ricordo che i punti di codifica che io ho segnato per il fattore benessere che è uno dei sette fattori contatto che insegna i parrucchieri pro bene uno di quei sette fattori è il fattore benessere e ci sono sette ventidue codifiche dal momento in cui si fa la prima manovra alla ventiduesima la prima è controlla se il lavatesta è pulito la ventiduesima è lascia il lavatesta pulito ci sono altre venti regole tra la uno e la ventidue per trattare alla grande un cliente a lavatesta ora dimmi quanti parrucchieri sanno riempirmi le venti caselle che gli ho lasciato libero la prima e la ventiduesima glielo ho detta e soprattutto quanti collaboratori invece che cosa bisogna fare in base a come si lavora in base alla propria differenza al proprio posizionamento serve codificare tutto ma anche il saluto quando la cliente entra gli diamo del tuo o del lei la salutiamo in modo originale o convenzionale chi va incontro noi non ci rendiamo conto ma lasciare per venti secondi una persona una cliente nuova davanti alla porta vuol dire che per noi sono passati due secondi per lei sono passati cinque minuti e in quante volte abbiamo visto delle recensioni abbiamo iniziato male sono andato alla nuova parrucchiera ma l'ha lasciato cinque minuti sulla porta e sono passati di venti secondi gli scemi come quelli che se gli indichi la luna guardano il dito gli scemi dicono ecco guarda quella lì che stronza che mente invece gli altri dicono cavoli ma se i miei clienti si sentono in imbarazzo in piedi come dei cretini davanti all'uscio ci sarà anche qualcosa che devo fare che devo migliorare e invece no noi non abbiamo delle codifiche per la risposta telefonica ad un reclamo un cliente che chiama che reclama o che insiste per avere un appuntamento a una determinata ora cioè non ci sono codifiche pensiamo di risparmiare tempo poi perdiamo clienti e quindi dobbiamo spendere tempo per sostituire i clienti che abbiamo perso perché volevamo risparmiare tempo cioè è il paradosso dell'idiota eppure andiamo avanti anche l'abbigliamento ecco la cosa dell'abbigliamento che quando vedi tutti i vestiti in maniera diversa è un po' confusionario poi dopo magari arriva il giorno che non ti piace come sei vestito e nasce la discussione perché non l'avevi scritto prima semplicemente non l'avevi dettato delle regole semplici intanto c'è una domanda di metodi parrucchieri Martorana che era quella che probabilmente aveva fatto la domanda l'altra volta di fare questa puntata come consigli di comunicare al meglio overline tra virgolette un nuovo collaboratore appena giunto allo staff benissimo allora innanzitutto metodi parrucchieri Martorana fa riferimento lo dico per chi magari si sta facendo domanda sulla domanda sta facendo riferimento al fatto che quando arriva un nuovo collaboratore voi dovreste presentarlo e presentarlo anche bene quindi la prima cosa io vi faccio un esempio se voi andate a vedere i siti dei concorrenti all'estero e parliamo anche dei più blasonati o comunque di quelli che stanno facendo cioè non vi dico di Trevor Sorby ma del top a Londra andate a vedere chi è non ve lo dico così vi muovete io ne ho seguiti 4-5 ultimamente sia su Instagram che su Facebook perché sono sempre dedicato agli imprenditori della bellezza faccio solo questo da lunedì mattina alla domenica sera ebbene troverete due cose uno che hanno i listini scaricabili lo sai Romano l'altro giorno a Bari uno mi dice non ci credo e allora glielo ho scaricato in pdf sia di Coventry che di Richmond ho scaricato i listini di Trevor Sorby davanti a lui perché se no non ci credono vai sul sito di Trevor Sorby vai sul salone che preferisci ti scarichi il pdf del loro listino in Italia pensiamo che sia da coglioni mettere il listino ma poi la gente vede quanto costi no perché se sei posizionato come ti insegno io la gente il prezzo lo mette al quinto posto se tu mi dici ma da noi stai già sbagliando tutto perché hai detto ma non esiste perché noi l'altro giorno in sala avevamo fior di persone una delle tutte ma non soltanto è troppo facile sparare sulla croce rossa parlarvi di Roberto Vitaro che arrende a una fish media da 85 euro 85 c'è Mario che è un salone non lontano che è una fish media comunque molto importante quindi si può fare smettiamo di dire delle balle ma chiudiamola sul listino cos'altro trovate? Le bio dei collaboratori cioè voi trovate un salone in cui vengono presentati i collaboratori quindi nel momento in cui cara metodo Martorana caro metodo Martorana nel momento in cui arriva il nuovo collaboratore la prima cosa che dobbiamo fare è presentarlo se è più spavaldo con un video ma se vuoi fare di codifica la fai più semplice una bella foto puoi fare una foto sua e una foto con te racconti quello che andrà a fare o gli dai il benvenuto per lo stage o per i prossimi sei mesi che ci racconteranno se questo è un talento che può sbocciare quindi non è che dico ecco la nuova fenomena del mesh e poi magari fra due mesi la lasciamo a casa cioè invece no andiamo a presentarla con tutta l'onestà e la forza del caso perché come dobbiamo essere orgogliosi dei prezzi dobbiamo essere orgogliosi dei collaboratori io ho perso il conto dei complimenti che ho fatto ad Asia ad Aurora ad Alessandra e vi garantisco ve lo dico chiaro a Aurora ve ne può essere testimone proprio stamattina abbiamo analizzato un suo errore perché è rare e umano e non è che abbiamo fatto finta di niente anzi ci abbiamo cristonato insieme sopra ma è bello puoi sentirti dire da una collaboratrice ragazzi scusate ho sbagliato io perché è diverso da dire no ma io forse cercare la giustificazione a casa nostra le giustificazioni sono un cancro della crescita e noi cerchiamo di non ammalarci perché la giustificazione è il cancro della crescita quindi la presenti online e offline puoi metterla all'interno della tua salonette ma non posso dirti che cos'è e lo sanno gli allianzati parrucchieri pro oppure semplicemente in uno stand post in un post in cui racconti il tuo team che dà il benvenuto alla nuova ragazza quindi anche solo una cartolina in cui il team si mette intorno e la ragazza la metti davanti può essere una grandissima idea per poi mettere dietro la cartolina che cosa si pensa di fare ma questa qua si sente una star signori io sono la somma delle persone che lavorano con me non per me che lavorano con me io oggi con tutto quello che ho da dire magari per migliorare se siamo due giorni è perché vogliamo a cogliere delle opportunità b risolvere delle problematiche però posso dirvi che senza le persone che in questo momento ho intorno valgo molto ma molto meno ma voi pensate le persone che ho in ufficio oggi Cristina mi ha presentato un bilancio al 30 di settembre che è uno spettacolo e lo ha fatto in tempi estremamente rapidi dandomi la consapevolezza perfetta di quello che siamo Tigiri e Alessandra hanno fatto un lavoro Tigiri e Aurora hanno fatto un altro Asia non ne parliamo intanto Giancarla si sta spaccando domani arriva con Raffaele che prima della diretta era ancora lì che lavorava con un cliente cioè ragazzi abbiamo un pool di persone che si sono scelte perché vi ricordo io al colloquio prima di tutto analizzo la persona perché per me la persona viene prima del talento e della passione quindi io prima assumo persone poi assumo professionisti o in prospettiva o nell'immediato prima assumo persone se io non vedo una persona se una persona mi arriva un quarto d'ora prima ha già sbagliato tutto com'è perché arrivare prima e arrivare dopo sono due modi per non arrivare puntuali quindi la prima cosa che deve fare è arrivare precisa la seconda è dimostrarmi che ha studiato quello che noi siamo è andato a studiarsi il sito se voi vedeste Tommy lo saluto perché probabilmente è in diretta inizierà a collaborare con noi bene Tommy la prima volta è arrivato lì ne sapeva quanto me di quello che c'è su internet e ovviamente è arrivata la prima volta che ci siamo parlati al telefono quando si stava valutando le opzioni di collaborare ma aveva già fatto sei domande una più intelligente dell'altra poi c'è della gente ah sì ma mi piacerebbe ti mando un curriculum poi dopo una settimana arriva eh sai la settimana scorsa non ho avuto tempo ma se sei disoccupato imbecille cosa non hai avuto tempo allora o prendi per il culo te o vuoi venire a prendere per il culo me io non ho bisogno di persone che mi creano problemi io assumo persone che mi risolvono i problemi o fanno in modo che i problemi io non ne abbia questo è il motivo per cui ti assumo non per portarmi dei problemi se stai cercando uno stipendificio cercala fuori perché da me non ne trovi no tra l'altro adesso te lo danno tra l'altro se sei sul divano quindi sì ma finirà perché hanno finito i soldi esatto esatto mi piace intanto che si commentano si salutano tra collaboratrici e titolari di saloni mi mettono in baratto grazie cioè è fantastico questa cosa qua a monte di tutto questo ragazzi c'è sempre questa cosa che alleggia questa nuvoletta nera di fantotti su tutti che è la permalosità che alleggia nei saloni che alleggia nel popolo dei parrucchieri perché io quando vado sono molto cioè se gli dici una cosa cazzo si incavolano cioè da una parte ok buono perché vuol dire che ci tieni no sì io dico sempre così se ti arrabbi è perché ci tieni perlomeno però cioè bisognerebbe andare oltre poi tra l'altro lei le tue hai detto questa cosa bellissima di metterli davanti a tutti immaginate voi quando arrivate a casa di qualcuno che non conoscete conoscete soltanto il padrone di casa c'è una cena se vi facesse entrare vi facesse sedere sulla tavola rimarreste imbarazzati se invece lui vi presentasse davanti a tutti vi dice questa è la persona fa questo questo e quest'altro mio amico tutto il resto e si siede già la serata è in discesa dovreste fare la stessa cosa con tutti i vostri collaboratori tra l'altro poi lei le hai detto questa cosa di mettere il listino su facebook su facebook c'è una funzione che vi permette di far sì che il pdf proprio venga giù non vi dico di postarlo il listino perché adesso poi domani si infiondano ad attaccarlo alla vetrina c'è modo e modo di farlo l'hai spiegato più volte nei tuoi corsi dove vai nel dettaglio cioè anche qua dopo si rischia di tu dici una cosa ha detto di mettere il listino in vetrina ha detto di mettere il listino su facebook no c'è modo e modo di mettere il listino in qualche modo adesso qua non è che facciamo il corso però c'è già sapere che ci sono queste cose uno dovrebbe fiondarsi e interessarsi a sapere come si devono fare ma guarda sulla permalosità io la considero il problema più drammatico è il peggior nemico di un team non c'è niente di peggio romano io ho preso una persona pedata in senso metaforico perché sono sembro tanto incasinato perché alzo la voce o dico la parolaccia ogni tanto però ragazzi sono una delle persone più buone e di cuore che potete incontrare perché però è chiaro che non accetto certi concetti io alla seconda volta che mi ha risposto anziché prenderla ha cercato la prima volta ha cercato di fingere che non era colpa sua la seconda anche la te io alla terza volta ragazzi oggi pomeriggio prenditelo libero vai a riflettere su cosa vuol dire crescere perché non c'è spazio non esiste ragazzi nessuno può accettare all'interno del salone la permalosità e nel momento in cui voi mi dite ma sei il titolare che è permaloso andate a dare curriculum ragazzi perché la gente deve imparare ma Lele si nasce così vaffanculo non è vero non è vero perché chi ti parla era un permaloso di M era un permaloso di M e ho deciso che non potevo più accettare questa permalosità perché per me era un problema non per te per me perché io stavo male sulle cose che mi dicevano signori sono strabico come una talpa e mi prendo in giro si chiama autoironia ed è il nemico giurato della permalosità prendetevi un po' meno sul serio ricordatevi che io ad ogni cosa che tu mi dici mi devo chiedere che cosa posso portarmi a casa tu puoi mi dire ma Lele brutto come sei puoi andare su un palco io ti garantisco che mi vedrai sorridere non con i denti ma con la pancia perché io ti dico tu pensa quanto devo alzare il livello di contenuti per meritarmi l'attenzione del pubblico se tu pensi che io l'abbia pensata prima ti sbagli perché perché ormai nella mia testa c'è Lele che ti arrabbi mannaggia che mi arrabbio di solito pochi secondi non do troppo spazio alla rabbia se il problema è molto grave lo sapete ho affrontato una proma molto dura nella mia vita e mi sono ritrovato ad agosto che avevo un figlio con un problema di salute gravissimo e una mamma che non mi riconosce più e tuttora non mi riconosce più quindi non credo che si sveglierà un giorno e si ricorderà che è un figlio come me anche se forse è la sua fortuna e che non si ricorda più chi sono però voglio dire ragazzi i problemi li abbiamo tutti però quando arriva una persona e mi dice Lele sta cosa non mi piace per come l'hai fatta io chiedo il perché non dico come ti permetti questo è il discorso e allo stesso modo io non posso arrivare in ufficio e dire prendo Asia potevo prendere chiunque altro arrivare in ufficio e dire Asia grande complimenti gran bel lavoro e poi non posso andare a dire Asia sto lavoro non va bene va rifatto e lei si scoppia a piangere ma manco ci pensa Asia mi dice cavoli fammi capire come l'avrei dovuto fare ah cavoli non ci ho pensato perché? perché tutti vogliono il bene di tutti nella nostra azienda e voi dovete costruire questo si fa una riunione si chiama Tira la catena vi togliete i sassolini gli scheletri dall'armadio partite sul pulito ve li togliete per un'ora state lì ma gonatevi promettete di non alzarvi dalla sedia vi dite quello che vi dovete dire non vi sovrapponete mai e poi mai il capo dovrà dire qui chi comanda sono io questo mai perché nel momento in cui lo dici la tua leadership è fottuta ma lavorate insieme e ricordatevi collaboratori che non sto parlando solo ai titolari perché io ho visto dei titolari diventare migliori perché i collaboratori gli hanno dato una mano a diventarlo quindi ricordatevi che la complicità costruttiva come la chiamo io intimizzare saluto il mio socio Gianluigi Rendinelli bene la complicità costruttiva non parte dall'alto la squadra la costruite attraverso i vari elementi che la compongono e l'ultima persona che è arrivata in ufficio può dare una mano ad una squadra a diventare più forte o può dare una mano a diventare più debole ok soprattutto le riunioni vanno fatte quando le cose vanno bene non soltanto quando le cose vanno male perché spesso vanno male riunione tutti incazzati oppure tutti il padre padrone da una parte e gli altri con le orecchie sotto dovete fare più clienti dovete fare più 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 cioè parliamone quando vanno bene così a bocce ferme ti dico qualcosa che non va magari non ti incazzi questo è ma do un suggerimento sulla permalosità ora voi domani quando avete sentito questa sera e ammettiamo che a voi questo discorso piaccia ok domani arrivate magari il titolare vi dice sta piega l'hai fatta proprio male e voi distinto siete quello di un minuto fa di un'ora fa di ieri e quindi vi viene voglia di dire senti io mi sto impegnando se ti va bene così se non ti va bene ammettiamo pure che voi vi parta l'embole e lo diciate la risposta immediata deve arrivare subito dopo a bocce ferme dovete dire senti avrei potuto risponderti meglio mi racconti cosa avrei dovuto fare per fare meglio quella piega allo stesso modo il titolare nei confronti dei collaboratori cioè ragazzi la permalosità è il peggiore dei difetti non c'è un difetto peggiore della permalosità dovete togliervelo dalle balle perché vi rovina la vita e la rovina a chi è intorno a voi e quindi chi è intorno a voi o è utile tra virgolette o è la persona con cui state più tempo magari un figlio magari un partner magari una madre smettetela di rompere le balle con la vostra permalosità prendetevi un po' meno sul serio e cercate sempre in ogni occasione anche nella più difficile di chiedervi come potete crescere come potete migliorare ecco poi il che non vuol dire che non bisogna arrabbiarsi perché ogni tanto ci sta ci mancherebbe però bisogna andare oltre e avere sempre ben presente l'obiettivo del salone altra cosa che mi ero appuntato questa qua è un'altra puntata che abbiamo fatto sempre che se facciamo il revival che mi ero scritto quella frase in inglese che fondamentalmente ve la traduco subito se pagate con noccioline ragazzi arrivano le scimmie questa qua era la frase top guarda io ti dico una cosa che è terribile su questo noi quest'anno abbiamo fatto una scelta molto precisa è una scelta difficile perché noi quest'anno abbiamo deciso di investire sui clienti perché ci siamo ritrovati ad aprile e avevamo delle persone veramente in difficoltà e abbiamo regalato un quadrimestre i nostri allievi avanzati che si sono ritrovati con quattro mesi omaggio per me è un omaggio da 220 mila euro quindi io quest'anno ho chiesto alla mia squadra di avere pazienza perché quest'anno non potremo ridistribuire utili perché fare degli utili sarà veramente impresa ardua ripeto se ti chiudono per quattro mesi in attività che vive di formazione puoi bene immaginare però una cosa è chiara per me è indispensabile ragionare in un modo che è quello cui ragiono io per primo in questa azienda mi pago per ultimo faccio i conti e devo vedere che i soldi ci siano ma mi pago per ultimo e voglio che le persone che vengono da me sentano che io da loro mi aspetto un po' di più di cosa si possono aspettare altri lavori e al tempo stesso che sono pronto a dare un po' di più quindi secondo me chi vuole crearsi una squadra deve essere pronta a creare innanzitutto una visione forte noi ce l'abbiamo e poi deve pensare a chiedere un po' di più perché vedete ragazzi ci sono due difetti nella costruzione di una persona che lavora uno è lo stress e uno è il relax seguitemi bene perché questo è un input avanzato poi voi potete annuire e dirmi poi vengo a vedere quali sono le codifiche che fate contro questo punto in un minuto e mezzo lo liquido voi dovete pensare facciamo il finto di prendere una colonnina manco fosse la misura del termometro ok bene fatto 10 la quantità di stress e 0 la quantità di relax ok voi dovete pensare che se scendete sotto 70 o se salite sopra 90 avete comunque creato dei problemi se salite sopra 90 lo stress diventa eccessivo le persone diventano nervose amano meno lavoro e nel tempo se ne disinnamorano se andate sotto 70 allora lo stress diventa negativo perché comunque sia non ce n'è la gente lavora sotto tono e poi chiedere a quella gente di riaumentare i ritmi diventa difficile voi non dovete mai scendere sotto i 70 non dovete mai andare sopra i 90 metaforicamente nella colonna ecco mettere le persone in condizioni di rimanere tra il giusto livello di stress all'interno delle mansioni che loro ricoprono è fondamentale per capirci Asia Pro è in diretta anche adesso la salute intanto Luana il mio dipendente è saccente molto autoritario e permoloso non veniamo mai a capo di nulla licenzialo brava lo stavo dicendo io allora ci sono due cose da fare ragazzi attenzione attenzione perché altrimenti qui mi arrivano gli insulti li prendo tutti volentieri o abbiamo voglia di lavorare insieme di fare qualcosa di speciale o non abbiamo voglia di fare insieme qualcosa di speciale punto non ci sono vie di mezzo una donna o è incinta o non è incinta non può essere un pochino incinta ok quindi quello che dovete fare ragazzi è dire ok senti ragazzo io e te abbiamo bisogno di parlare mi prendo un'ora ti dico allora c'è questo che non mi va questo che non mi va questo che non mi va partiamo dalla permalosità cosa puoi fare ah io non faccio niente il mio carattere è questo benissimo cercati un lavoro ma no voglio provare a lavorare benissimo lavoriamo insieme sono la tua palestra voglio aiutarti a battere la tua permalosità aiutiamoci a battere la tua permalosità e andremo in quel ristorante stellato Michelin a festeggiare il giorno che sarai praticamente zero permaloso questo è il modo di ragionare o si sta insieme con il piacere di lavorare insieme oppure non si sta insieme una via di mezza con della gente che blenblona in giro per il salone non va bene e ripeto se il permaloso è il titolare andate a dare curriculum non state con della gente che vi rompe le balle che invece di farvi crescere vi fa demotivare non possiamo permetterci in un momento come questo di avere intorno dei demotivatori li dobbiamo prendere a calci i demotivatori in entrambe le situazioni in entrambe le parti sia che sia un titolare che sia un dipendente perché non è sempre colpa di quegli altri ti dico solo qual è la chiave di timizzare non ci sono corsi in data lo facciamo nel 2021 con il mio socio Gianluigi Rendinelli che peraltro è un parrucchiere che fa leadership dal mattino alla sera perché è in un salone e quest'anno ha avuto le sue belle sfide da vincere per poter dimostrare la sua capacità di lavorare sulla leadership il principio di base non è titolare o collaboratori il principio principale è persone tu prima hai riportato una frase che io ho parafrasato rispetto alla Starbucks che dice noi non serviamo caffè alle persone noi lavoriamo sulle persone che servono il caffè allo stesso modo io vi dico noi non lavoriamo non facciamo capelli alle persone lavoriamo sulle persone che fanno i capelli questo è il principio il primo ruolo di un leader è creare persone che riescano ad esprimere al meglio il loro potenziale per me Asia è un mio problema io devo fare in modo che Asia se rimane con me fino alla pensione mi fa un piacere perché vuol dire che voglio dire è sui vent'anni vuol dire che ne vivo cento scherzi a parte quello che mi interessa è che finché è con me e spero che sia per tanto tempo lei deve uscire di qui straordinariamente meglio di come entrata come persona e come professionista vale lo stesso per Alessandra per Aurora per Cristina per Pietro per tutti per tutti non li cito a tutti perché se no facciamo noi esatto questo è il punto Lele quindi è corretto dire che un titolare deve aiutare la persona a gestire se stessa quasi allora visto che deve essere autonoma per lei la prima cosa che deve fare un leader è lavorare su se stesso e non dare per scontata la propria leadership perché se i miei collaboratori sbagliano una volta si parla con Aurora ci si siede come era successo è stato bellissimo perché l'anno scorso ho fatto un tour sul team il team tour e raccontavo di Rosaria che è rientrata in questa settimana proprio lei aveva ordinato due volte una stessa cosa praticamente non si era accorta che avevamo in magazzino una cosa è stato un suo errore che ci è servito per legarci per capire che questo errore non lo faremo mai più non è stato un errore da poco non è che ci ha smontato una casa però sicuramente è stato un danno economico importante ci siamo chiesti al di là delle battute che ci siamo fatti ci siamo chiesti che cosa può essere successo come possiamo fare ad evitare che succeda gli errori ci stanno ci stanno sempre quello che dobbiamo capire è che dietro quegli errori c'è la risposta all'errore il modo in cui insieme si lavora e si cresce è questo il punto ed è la squadra che costruisce se stessa quindi un leader per prima cosa deve partire da se stesso perché se l'errore di Rosaria è uno poi passa un mese fa un errore Alessandra poi passa un mese ne fa un Asia va tutto bene nel senso sarebbe meglio non farli ma sono rari nel momento in cui ogni giorno ci sono degli errori a fare un lavoro di un'ora ci mettiamo tre ore trovi uno a fare un lavoro che dovrebbe fare un altro perché l'altro non lo vuole fare allora lì ti devi fermare perché il problema non sono i ragazzi che non hanno voglia di lavorare il problema è la leadership che non c'è quindi io devo sempre rendermi conto che per capire se la mia azienda va bene guardo il fatturato ai clienti che ho per capire se la mia azienda interna va bene guardo il modo in cui il livello di performance che viene fatto e i tempi di lavoro se il lavoro va bene vuol dire che i ragazzi stanno bene sono un buon leader quindi prima devo partire da me devo mettermi io per primo in discussione poi devo dedicarmi completamente alla crescita delle persone ripeto per me le persone che sono nella mia azienda lavorano con me e non per me fai la metafora dell'aereo quando vi dicono sta per cadere mettetevi prima a voi la maschera dell'ossigeno e poi aiutate quelle che ci sono di fianco bella precisa ottima metafora va sempre usata da tutti i formatori ed è sacrosante infatti noi diciamo l'egoismo l'altruismo non si deve essere né egoisti né altruisti perché essere altruisti è sbagliato come essere egoisti cioè io non lo faccio per Asia io lo faccio per me perché voglio essere un bravo leader e Asia ne è la prima beneficiaria questo è il discorso ragazzi puoi dare agli altri soltanto quello che hai se io ho mille problemi con me stesso sarà difficile che io riesca a dedicarmi ad Asia se io ho mille problemi con me stesso sarà difficile che riesca a dare un supporto ai miei figli per farli crescere bene quindi il primo lavoro dobbiamo farlo su noi stessi e poi ovviamente dobbiamo dedicare noi stessi agli altri perché se siamo troppo egoisti pensiamo solo a noi stessi e gli altri se ne accorgano e diventa una guerra per il centesimo in cui tutti guardano solo il proprio interesse personale ma se siamo altruisti rischiamo di diventare ingenui e rischiamo di trovare delle persone che poi si rilassano perché tanto vedono che noi mettiamo loro no io ai miei collaboratori ricordo due cose performance risultati tutto il resto non mi frega niente nessuno viene nella mia azienda a chiedermi un euro perché si impegna nessuno perché vuole fuori dalla porta viene a chiedermi un euro perché abbiamo prodotto dei risultati superiori a quelli che avevamo preventito lì ci siamo l'impegno è dato per assodato se lavori con me io mi impegno e tu ti devi impegnare se non ti vuoi impegnare là fuori ci sono gli stipendifici vacci oppure prenditi il reddito di cittadinanza qui viene premiato per i risultati che produci i risultati sono in base agli obiettivi se manca l'obiettivo poi anche questa cosa qua sai bisogna lavorare ci vuole una puntata intera per l'obiettivo ok allora siamo arrivati all'ora però volevo sfatare un po' il mito e sentire tu cosa ne pensavi della famosa frase fatta le società migliori sono quelle dispari con un numero inferiore a due quindi fondamentalmente devi stare da solo e poi vedi i saloni con il titolare dipendente e la dipendente a un certo punto è stufa è stanca vuole crescere non lo so che cosa o si crea qualche problema e se ne va e il titolare rimane incasinato diciamo oppure magari se ne va semplicemente perché non era compatibile magari era il titolare migliore del mondo tu sei per il singolo o perché il team di fatto è una società adesso al di là che poi uno abbia le quote e non abbia le quote allora ti rispondo ti rispondo molto volentieri ed è una apparente marchettata poi di fatto se non siete miei clienti non potete accedere a queste realtà e te lo dico in ordine di costituzione e mi capirete ci impiegherò un minuto vediamo se ci riesco in un minuto allora progetti parrucchieri SRL Renumera SRL Meravista SRL Protago SRL Splix SRL Timizzare SRL Brand Busters SRL vi sto parlando di sette aziende ce ne sono altre due oltre a buon lavoro che la mia stiamo parlando di dieci aziende tutte meno una sono nove aziende SRL tutte in Italia tutte nelle Ren Beauty sono tutte società e sono tutte società responsabilità limitata perché? perché secondo me da soli non andiamo da nessuna parte ragazzi dopodiché se tu sei uno che vuole lavorare da solo e servirsi il cliente dall'inizio alla fine non ha bisogno di collaboratori io non ho niente da dire basta che tu mi faccia vedere che la tua fish media ha 70, 80, 100 euro perché sotto i 50 non devi andare nemmeno morto dopodiché se invece vuoi realizzare delle ambizioni importanti ricordati che non puoi fare tutto da solo e allora devi costruire una squadra e se hai delle ambizioni ancora più importanti con un socio vai da qualche parte senza fai più fatica l'esempio più classico che porto spesso è quello di Milù che ha capito che il suo posizionamento era dato dalla fusione ideale fra lo stilistico il taglio e il benessere che cosa ha fatto? non ha cercato una collaboratrice che facesse benessere ha cercato una socia che facesse benessere risultato? numeri impressionanti crescita continua e addirittura lei che si schierava contro l'idea di avere collaboratori adesso ne ha e conta di averne di più quindi dobbiamo crescere con la convinzione che le società devono partire con i presupposti giusti il motivo per cui chiude è che sono quattro pellegrini da soli quattro straccioni da soli con degli scontrini bassi che adesso che non possono più fare nero come facevano i loro padri sono lì come dei cretini da soli che non possono chiudere e si lamentano perché lo Stato dice potete tenere aperto anche lunedì o potete tenere aperto 12 ore al giorno e noi cosa facciamo? ma ragazzi se vogliamo ancora andare a cucinare la pasta al marito a pranzo ma c'è anche una vita e non hai capito che però c'è una vita e che il lavoro va fatto in un certo modo scordatevi che io vi insegno a lavorare di più io vi insegno a lavorare meglio ma è impensabile che vogliate fare un salone importante da soli chiudo con un esempio qui cambio i nomi cambio i nomi sono nomi fasulli qui c'è Anna qui c'è Cinzia qui c'è Anna e dice io voglio mettere su famiglia e ho deciso di mettere su famiglia quindi prima mi creo un salone con quattro persone dentro non una ma con quattro persone dentro brave le formo e poi cerco un figlio con mio marito e guarda il caso oggi sono in sette e lei ha due figli e le ha gestite alla grandissima qui c'è Cinzia Giovanna lui non mi ricordo come lo chiamate c'è Carla l'altra quindi Anna e Carla facciamo così perché mi sono sbagliato col nome l'altra che inizia a aprire il salone da sola perché il genitore gli dice lungo come la gamba dopo sei mesi il marito gli dice ma perché non ci diamo dentro rimane incinta e lei dice ma come mi si sono rotte le acque in salone sono tornata dopo dieci giorni ma ho perso il 60% dei clienti la gente è così e tu da sola non dovevi aprire punto o fai la mamma o fai l'imprenditrice se fai così fai tutte e due alla grande se sei da sola come una tapina fai quello che vuoi e chiudiamo con metodi parrucchieri Martorana un commento sull'SRL nel nostro settore il commercialista me la sconsiglia sempre quindi a parte cambiare commercialista Lele parruccherando SRL tra l'altro ragazzi non è che lo dico senza causa ma come è possibile che io abbia creato solo dell'SRL cioè o sono scemo ragazzi io non riesco a capire allora partiamo dal presupposto prima di tutto il problema non è commercialista ma siete voi perché voi andate dal commercialista e gli dite non rompermi le balle non voglio avere rotture di balle non voglio pensare e voglio voglio pagare poche tasse allora se io ti metto con una SRL tu mi devi dare devi rispettarmi delle regole ci sono delle regole da rispettare punto non è che fai quel cacchio che vuoi non ti perdi la ricevuta non mi mandi una ricevuta indietro mi fai un lavoro fatto bene non prendevi dal conto ad minchia perfetto quindi delle volte loro lo fanno perché voi gli avete chiesto questo secondo fammi pagare poche tasse loro che cosa fanno ti consigliano addirittura la forfetaria che per me è la pazzia più assoluta è impensabile che voi vi rendiate conto che nel momento in cui partite con la forfetaria prendete 20 euro per una piega e poi l'anno dopo volete crescere volete magari raddoppiare il doppio perché vedete che siete bravi o sui 20 euro aggiungete l'iva o dai 20 euro togliete l'iva bisogna vedere se con i conti ci state ancora se non lo capite io non so cosa dire e poi lo dovete spiegare anche ai clienti del perché sono 5 euro in più quindi quello che dovete fare l'SRL non è matematico che dovete farla se fatturate 70 mila euro ci mancherebbe ma a creatori di profitti Davide risponderà proprio a questo perché lui dice ragazzi non è tanto una questione di fatturato ma ci sono dei parametri che dovete sommare in base a quelli potete capire se fate bene a diventare un'SRL oppure no sappiate solo una cosa che nella maggioranza dei casi mi scalo di più io con un'SRL che voi con una società di persone detto questo buonanotte perché ragazzi svegliamoci dobbiamo sempre ricordarci che voi dovete delegare ciò che conoscete quindi dovete smetterla di andare dal commercialista che sembrate fantozzi quando si sedeva sul puff davanti al manager dovete rendervi conto che voi dovete conoscere i numeri del vostro salone e che il commercialista è deputato a farne qualcosa con voi e non tutto per voi non vi dice il commercialista che dovete creare le combo perché non sa nemmeno cosa siano non ve lo dice vi dice semplicemente quello che volete sentirvi dire per esempio semplificate non ordinaria sbagliato dovete avere l'ordinaria dovete vedere che la carta igienica è messa qui nei costi e che il colore è messo qui non che è un calverone unico che non si capisce più niente allo stesso modo con i collaboratori quando arrivate dal commercialista che vi dice non assumere tu gli devi dire stai zitto e dimmi quanto devo fatturare in più per potermi permettere questo collaboratore questo è quello che ti deve dire il tuo commercialista e non no ma cosa assumi stai zitto perché è lì da solo o magari sono in tre o quattro perché se sono in quindici e in venti già dovrebbero ragionare in una maniera diversa sono gli stessi che ti dicono non aumentare i prezzi però loro a te il prezzo lo aumentano e tu stai zitto e vai via svegliatevi dovete essere i primi imprenditori i primi consulenti di voi stessi allora sì che trarrete anche massimo profitto dai commercialisti che avete al vostro fianco cominciate a domandarvi ragazzi quante persone dovete mandare via ogni volta per non fare un lavoro perché non potete per esempio il commercialista quello non lo sa non è lì con voi non sa quante volte dite di no a qualcuno perché c'è la poltrona piena perché non avete voglia quello non dovrebbe succedere piuttosto che altre cose perché dovete andare a comprare i prodotti perché c'è dovete dare retta a qualcuno queste qua sono quelle cose che il commercialista non lo sa se il tuo braccio destro sono un sacco di commenti bellissimi vedo quello di Loredana Piccione di altri i miei complimenti perché vedo che in tanti avete sono sul pezzo sono sul pezzo Eli un'eccezione dice a parto di non ho preso nessun cliente sai Eli io sono contento che è andato tutto bene però se c'era una qualsiasi siccome ho avuto amiche che hanno avuto delle problematiche di gravidanza e se magari ti beccavi sei mesi in ospedale o semplicemente a casa in un letto i problemi sarebbero arrivati ecco io sono felice per te Eli sappi che io faccio il tifo per voi non faccio il tifo per degli altri sicuramente ti dico è dato non perdere nessun cliente ovviamente non posso mettere in discussione quello che dice Eli anzi io sono strafelice un tempo fa mi sono trovato con uno Romano lo sa che diceva io con gli sconti sto andando benissimo e tre mesi dopo ho chiuso il salone cioè io quello che voglio dire è che io se faccio un'analisi e non ho perso clienti Eli vuol dire che stai facendo qualcosa di straordinario secondo me devi valorizzare il tuo listino perché potrai andare ancora meglio quindi brava chapeau comunque sono passato da Eli a un bellissimo salone in zona Como saluto adesso Raffaele Miglietta che è intervenuto che lui è di Bari Bonopoli in quella zona lì dovrebbe essere da te secondo me Raffaele Miglietta perché sono passato anche nel suo salone li ho fatti un po' tutti un po' tutti no perché ho fatto solo una piccola percentuale va bene Lele un'ora e otto minuti vuoi leggere qualcosa ma siamo tu mi dici di stare ligio al dovere le regole ci sono assolutamente sì perché bisogna rispettare le regole io voglio solo trasmettere un concetto un concetto solo prima dei saluti l'insieme è il seme ragazzi ricordiamoci che quando noi cominciamo a lavorare e a costruire nella squadra quindi noi con i collaboratori cominciamo a costruire l'idea di fare qualcosa di speciale senza pensare ad ambizioni planetarie non è che dovete diventare i parrucchieri numero uno al mondo ma chi l'ha detto io quello che vi dico state sempre attenti alla battuta dell'accontentarsi perché ve lo dirò parlando di marketing di numeri e di persone voi potete anche accontentarvi ma non potete chiedere né ai vostri clienti né ai vostri concorrenti di accontentarsi come non lo potete chiedere ai vostri collaboratori più ambiziosi quindi dovete sempre cercare di capire i vostri collaboratori dove si vedono fra tre anni dove vogliono andare costruire con loro un percorso di crescita perché non c'è niente di più bello di far crescere dei concorrenti sani che punteranno non sul prezzo ma sulla loro autorevolezza sul loro talento quindi quelli sono i concorrenti di cui non vi dovrete mai preoccupare perché ricordatevi c'è spazio per il talento c'è spazio per il valore che non c'è spazio per la mediocrità il prezzo basso lo sconto e la guerra dei poveri quello che dovete fare è far capire ai vostri collaboratori che quello che state facendo è ben più di un mestiere perché non è facile poter ripetere in altri ambiti quello che dico a voi se vi ho definiti creatori di autostima perché penso che voi lo siate attraverso il modo di apparire migliorate il modo di essere delle persone e creare in questo vostro salone un progetto che in qualche modo nel vostro piccolo si intende migliori il mondo è qualcosa di straordinario alla quale molti collaboratori sentiranno il piacere il volere di collaborare altri magari si perderanno altri non capiranno ci sta ma ricordatevi la prima cosa che dovete fare domani è pianificare il tiro alla catena una riunione nella quale vi andate a togliere i salsorini dalle scarpe gli scheletri dall'armadio e combattete uniti quella maledetta permalosità che vi tiene lontani e che fa vivere una situazione di stress di tensione ai vostri clienti che la respirano anche se non la vivono se non la vedono quindi dateci dentro divertitevi a fare qualcosa insieme perché l'insieme è il seme l'insieme come diceva qualcuno è maggiore della somma delle sue parti non c'è niente di più bello personalmente per me è stata la mia scelta di vita di girarmi a destra a sinistra vedere delle persone con cui sto condividendo questa straordinaria avventura imprenditoriale che è quella di evolvere una categoria come la vostra e le hai trafitti al cuore perché vedo che fioccono i cuoricini e i like e dappertutto devi metterla in calce all'inizio dei corsi questa frase e in modo tale stamparla come il prossimo evento e tra l'altro ci sono un po' di c'è Salvatore che dice sarei curioso di vedere dove andate a scaricare la vostra adrenalina non dite che andate a dormire non ci credo vabbè come far crescere i concorrenti questa non l'ho capito però prima mi diceva questa frase che magari lo tratteremo per la prossima volta ragazzi che quanto sono importanti i prodotti ecco potremmo partire da lì perché puoi avere il miglior prodotto del mondo ma se comunichi male non vai da nessuna parte Romano io so che te lo segnerai perché sei una persona molto precisa parliamo degli ingredienti del successo di un salone la prossima volta perché io voglio chiarire una volta per tutte una diatriba una diatriba riferita alle aziende perché secondo me le aziende possono essere la vostra fortuna o la vostra sfortuna e non dipende da loro dipende primis da voi e dalla vostra capacità di interpretare i loro messaggi le loro richieste e anche quello che loro inventano quello che loro creano benvenga che ci siano le aziende benvenga che voi siete in grado di costruire delle collaborazioni solide con loro scegliendole molto molto bene parleremo degli ingredienti del successo di un salone quindi preparatevi sarà un piacere partire dalle aziende e dallo spiegare una volta per tutte perché vi dico che ogni volta che pagate un espositore secondo me non state bene di cervello allora ragazzi l'appuntamento oltre che per essere giovedì è per parrucchiere Pro a Milano occhio che porto il microfono attenzione diciamolo che è sold out perché altrimenti qualcuno dice se 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 sold out lo sai che l'altro giorno no ma non è vero che sold out tutto finto io vengo a vedere non ci andiamo nemmeno a Milano minghia c'è il covid non ci andiamo stiamo bravi speriamo che non rompano le balle che non rompano le balle adesso abbiamo una sala proprio finita quindi ripeto dovrebbero togliere il covid non credo che succederà quindi la sala è bardata così è perfetta per il numero che abbiamo definito quindi rispettiamo rigorosamente ogni regola va bene compro un microfono nuovo così è sterilizzato ragazzi in modo tale che sia noi viaggiamo così per tutte le domande loro hanno la mascherina ad ogni volta salvietta e sterilizzazione del microfono è per quello che li scassi infatti io ne ho già bruciati i due perché non ti ando a pulirlo alla fine è morto va bene quindi l'ho comprato adesso arriva quindi ragazzi parrucchiere pro Milano e poi Roma e poi e poi e poi ok poi mi devi dire perché sono così scuro e te sei così chiaro ti vuoi più chiaro ti vuoi più chiaro la prossima volta ti metto più chiaro voglio più chiaro sì voglio più chiaro adesso aspetta guarda qua tac eh vedi 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 e allora la prossima volta ti metto più chiaro per il coso paf schiacci via che bella serata capito salvatore dove andiamo a scaricare le nostre ecco va bene ciao a tutti ragazzi buonanotte ciao ciao